la 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 oggi vado un po scavare per trovare i diamanti allora scaviamo andiamo giù così andiamo oggi voglio trovare proprio un bel po di diamanti no aiuto no cosa sta succedendo aiuto no la lava com'è possibile sono morto ovviamente non dovevo scavare sotto i piedi me la dimentico sempre oh i miei bellissimi diamanti quanti diamanti ho trovato oggi tanto è scontato adesso io scendo qua sotto mi trovo altri diamanti perché oggi sono così stato fortuna ho trovato un sacco di diamanti ecco ops eccoli qua diamanti smeraldo oro che bello guarda qui quanti ce ne sono tutti 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 invece l'altro mio amico sfortunato che mi vuole attaccare la sua sfortuna non posso avere amici così allora mi prendo tutti i miei diamantini e quando ho preso tutto l'oro e gli smeraldi ho preso un bel po si 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 oggi sono proprio sfortunato cos'ho oggi ho trovato solo e solo carbone e anche e anche terra e basta e quel mio amico ricchissimo fortunatissimo mi ha mi ha dato un accendino con il suo ferro che lui ha un sacco di diamanti un sacco di cose e non mi ha dato neanche un blocco in diamante mi ha fatto un accendino cosa ci faccio con questo accendino mi devo dar fuoco cioè io non lo so veramente poi ho aiuto e cos'è è oggi proprio sfortuna ma cos'è aiuto cos'è questo cartello entra dentro ci sono tantissimi diamanti ho una zappa è l'unica cosa dove sono i diamanti aiuto ma che bella caverna però ma dove sono i diamanti scusate aiuto sto per morire andate via 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 devo prendere per forza i miei diamanti poi con una zappa io devo combattere ma che tristezza ma non ci sono ma c'è uno spawner aiuto 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 ma sfortunato come sempre mamma mia oh eccomi qua mi prendo anche questi diamanti questi qua li lasciamo proprio con la sua sfortuna le avevo dato un accendino poverino amiche tanto con tutti i diamanti come sono fatto anche dei blocchi e risalgo con questi ma cos'è questa è una caverna bellissima entra dentro ci sono tantissimi diamanti allora a me in realtà non mi servono però me li prendo comunque tanto li metto lì ho una bella cassa ma è pieno ma c'avo già l'inventario pieno ma non fa niente ci li prendiamo comunque dai poi li brucio quindi ma io preferisco bruciarli che darli a quel mio amico tanto è sfortunato cioè anche lui se li prende se li porta a casa e poi li spawner in creepery a parte che li posso anche far prendere fuoco alla casa così poi li bruciano anche i diamanti ma non lo faccio e comunque io osservo sempre quel mio amico è sempre sfortunato li lascio questi blocchi qua così poi se li prende poverino che così sfortunato ogni giorno la sua vita sfortunato gli lascio tutti questi blocchi così e li lascio così poi si li può prendere lui e sai cosa gli lascio anche questi così ecco qua ti li lascio tutti io me ne vado ciao no oggi sono proprio sfortunato cioè volevo andare a prendere dei diamanti scavo sotto terra e boom della lava cioè sono proprio sfortunato cioè ho solamente degli stick e una crafting table che ho rubato a casa di mio amico fortunatissimo ma oh quanti diamanti li avrà persi quanta roba me li ciulo tutti tutti questa crafting table mi faccio un bel piccone mi faccio mille di picconi oh mi prendo tutti i diamanti sono tutti miei grazie amico grazie sei molto gentile me li prendo tutti tutti me li ciulo me li prendo me li prendo tutti tutti grazie a tutti per la visione lasciate un bel mi piace se volete altri video di minecraft e iscrivetevi iscrivetevi qua sotto nei commenti se li volete se vi piace minecraft e qual è il vostro gioco preferito ciao alla prossima